Ebbene proseguiamo la nostra piacevolissima corsa di oggi con un altro graditissimo ospite che sarà intervistato dalla collega Maria Pia Picciafuoco per fare il punto sul sinodo. Lui è il professor Giovanni Chifari, docente di teologia biblica. Eccolo il nostro carissimo ospite che è anzitutto un amico Giovanni, ben arrivato di nuovo qui nei nostri studi. Grazie sempre a voi. Oggi a parte tanti altri argomenti, prima anche con Monsignor Michele Pennisi forse hai fatto in tempo a sentirlo mentre eri appunto dietro le quinte, abbiamo anche parlato di Giovanni Paolo II perché il calendario liturgico ci dà oggi questa gioia. Ora, rapidamente anche tu, che cosa diresti a proposito proprio delle tue corde speciali quando parli della Chiesa e della sinodalità? Giovanni Paolo II cosa ci ha insegnato? Un Papa che ha aperto questa via con il ritorno alla centralità di Cristo, possiamo ricordare il suo primo annuncio, aprite le porte a Cristo. La centralità di Cristo, la misericordia, temi tipici del suo pontificato unite a questa profondità spirituale, un Papa mistico come è stato detto. Che è un po' quello che ci vuole oggi. C'è un ritorno alla centralità di Cristo, la preghiera. Bene, questa è la via anche della sinodalità. Certo, il tema è una Chiesa che vive secondo la forma del Santo Evangelo. Ancora non lo vedo come grafica ma sicuramente i nostri ragazzi la inseriranno. Quello che state vedendo è appunto uno stralcio, alcune immagini dei lavori. Tra l'altro con uno dei più importanti teologi, un domenicano che tu sicuramente conosci, Padre Radcliffe, ieri si è detto libertà per parlare con coraggio e accogliere l'opera della provvidenza. Quindi una meditazione che possiamo anche declinare a partire dal territorio. Sì, senza dubbio. Sono due caratteristiche fondamentali anche a livello di antropologia di base, se così possiamo esprimerci le coordinate attraverso le quali si muovono coloro che desiderano ascoltarsi camminando. Ecco, l'accostamento tra questi due verbi, camminare ed ascoltare, che sono due verbi fortemente biblici perché tutta l'esperienza del popolo si può declinare attraverso l'immagine concreta del cammino. Ma è un popolo che cammina ascoltando. Ascoltando chi? Innanzitutto Dio. Deve esserci questo slancio verticale. Un'immagine biblica molto adeguata è quella della nube. È la via. È la nube che indica la via. Immaginiamo questo popolo, come effettivamente è stato nel deserto, il popolo si fermava, quando la nube si fermava, la nube si muoveva e il popolo camminava. Questo ritengo sia molto importante ribadire oggi perché è la nube che è detta il cammino, cioè il primato di Dio. Perché può capitare che l'uomo attraverso l'enfatizzazione di un elemento culturale XYZ, chiamiamolo come vogliamo, possa anticipare le rotte dello spirito. Allora è la nube che è detta la via. Non è l'uomo davanti, l'uomo sta dietro. Per dirla in termini gesuani, opisomu, dice Gesù a Pietro, dietro di me. Dietro di me. Noi abbiamo dovuto un po' contrarre il titolo della tua meditazione, anche molto bella, sull'ultimo numero di voci e volti, cioè il settimanale diocesano, il quindicinale diocesano, che vive la Chiesa secondo la forma del Santo Evangelo. La forma mi fa pensare alla filosofia aristotelica in quel senso. Declinata in senso cristiano perché la vera forma, morfea in greco, è la forma di Cristo. Quindi il cristiano è cristificato e dunque la forma che assume il cristiano è innanzitutto inerente a Cristo, ripresenta Cristo. Abbiamo parlato anche con Padre Pio e San Francesco del tema delle stigmate nel mese scorso. Ecco, quelle stigmate sono il coronamento della forma di Cristo impressa nel cristiano e nel credente. E proprio San Francesco d'Assisi parlava di forma del Santo Evangelo. Quella ci basta. È che per noi il termine Evangelo è diventato un termine tecnico, ma Evangelo vuol dire buona notizia. E per noi lo è tecnico, per noi giornalisti. Appunto, ma in realtà all'inizio è buona notizia. Qual è questa buona notizia? Che Gesù è il Cristo, che Gesù è il Regno di Dio, è in mezzo a noi, Lui è presente. Allora bisogna convertirsi, cambiare testa e procedere lungo la via in una modalità differente. Ascoltando e ascoltandosi, quindi dimensione verticale, dimensione orizzontale, ponendo tutto quello che noi viviamo sotto un forte discernimento. Perché il cuore dell'uomo si inganna. Ci sono vie che sembrano giuste, dritte, non lo sono. Ecco, su questo torniamo tra un po'. Prima però volevo chiederti se possiamo fare un piccolo squarcio un po' più personale. Sì. Una considerazione, cioè la nube importante, forse quanto la luce, che noi siamo abituati a immaginare che sia più la luce, quella che ci guida, il faro, cioè ad altro tipo di analogie. Per te nella tua vita che cosa è stata la nube che ti ha condotto a questi studi, a tutto questo continuo, appunto, metterti in gioco non solo con le tue capacità intellettive, immagino, ma anche proprio nella tua vita quotidiana al servizio della Chiesa. Dare il primato a Dio, ascoltare la sua voce attraverso la parola che la Chiesa ogni giorno ci dona, mettere al centro la parola di Dio che richiama sia l'elemento luce, lampada ai miei passi, luce sul mio cammino, dice il salmista, ma anche l'elemento guida. Perché Dio si presenta nella scrittura anche come colui che guida. Con queste coordinate è più facile camminare, camminare non verso un cursus honorum, ma camminare al modo di Cristo. La vita nascosta è quella che Gesù presenta anche nel momento di sua massima popolarità. Questa è l'ultima settimana del Sinodo e tu appunto parli anche delle colonne della Chiesa, cioè l'esempio che traiamo dagli atti degli Apostoli di Pietro e Paolo. Adesso, oggi, come si trasforma tutto questo nel nostro futuro? Beh, è semplificativo come Pietro, Giovanni, Giacomo, chiamate le colonne, siano i punti di riferimento per il Paolo convertito che va da loro per avere il loro benestare. Lo stile è quello dell'incontro, del dialogo, dell'ascolto reciproco di ciò che lo Spirito genera attraverso la testimonianza e il servizio dei credenti. Da qui abbiamo la chiarificazione che Pietro sarà chiamato ad annunciare il Vangelo agli ebrei, ai giudei, mentre Paolo ai pagani. Questa è una forma, è un esempio di sinodalità in atto. Che cosa dice nei tempi presenti? Di stare in ascolto di quello che lo Spirito dice alle Chiese. Ora, ma questo ascolto non può essere estemporaneo e non può fondarsi su un'idea, ma deve essere frutto di un percorso costante, in ascolto della parola. Perché è la parola che detta la via, è la nube, la parola di Dio. È la parola che giudica interiormente. E dunque, se non si vive il primato della parola, se non ci si mette ogni giorno ad ascoltare la parola, a fare lezio divina della parola, se così possiamo esprimerci, e allora si rischia di portare avanti le proprie idee. Una volta, Alessi, un titolo, che tu sia per me il coltello, era il titolo di un romanzo, ma aveva un'eco biblica. L'autore, sì, è un celebre israeliano, tra l'altro. È possibile che a volte la parola operi in noi come un coltello, cioè ci possa fare anche un po' male? L'immagine è presentata dall'autore della lettera agli ebrei come spada, come spada che penetra in profondità dell'anima, come una spada a doppio taglio, ma nel fare male purifica. È una parola che ti pone di fronte alla verità su te stesso e su Dio, come sempre il nostro San Francesco diceva, chi sei tu, chi sono io. Ecco, questo è importante chiederselo alla luce della parola. La parola ha questo compito. E adesso, prima di chiudere, vogliamo proprio rilanciare anche quello che Papa Francesco insegna da tanto, cioè a non dimenticare lo Spirito Santo. Del resto, anche dal punto di vista ecumenico, è un elemento fondamentale. Noi l'abbiamo rimarcato nei nostri speciali del venerdì alle 11. Approfitto per preannunciarvi che anche questa settimana, naturalmente, avremo questo appuntamento. Però, appunto, io ci tenevo anche a inserire la questione della Chiesa che sta vivendo comunione, partecipazione, missione, come è appunto, come avete visto nel logo del Sinodo, in questo spazio in cui facciamo un'insalata. Ovviamente cerchiamo di mettere gli ingredienti non contrastanti tra loro. Oggi, tra l'altro, siamo andati lisci proprio perché tra Giovanni Paolo II, le confraternite, il Sinodo, sicuramente abbiamo un piatto già ricco. Tu che cosa vuoi aggiungere in un minuto? Allora, non abbiamo ancora dati certi per quanto concerne i contenuti di questo Sinodo, aspettiamo il documento finale. Primato dello Spirito nel senso di imparare a pensare i pensieri di Dio, perché i pensieri di Dio danno pace, e dunque sognare i sogni di Dio, non i sogni dell'uomo. Altro step, tutto ciò che verrà dopo, ecco le forme della Chiesa, si diceva, la forma del Santo Vangelo. Il primato del Vangelo ha la parola che conduce all'eucaristia, e chi scopre l'eucaristia, come è capitato nella Chiesa, nel Concilio Vaticano II, riscopre i poveri, riscopre il diaconato, tema caldo di cui si parla anche oggi, anche in riferimento alle donne. Ci vuole uno studio approfondito, perché l'unica Chiesa di cui se ne parla è la Chiesa siriaca, ma nella Chiesa occidentale non se ne parla. E dunque tutti gli altri temi, come hai detto tu, partecipazione, ascolto, missione, ci sarebbe tanto da dire sull'ascolto, non abbiamo il tempo, ci riserviamo in altra sede di poterlo fare, anche sto scrivendo proprio su questo tema. Qui spesso abbiamo anticipato anche i tuoi nuovi libri, quindi... Silenzio, ascolto e parola è un libro che è in uscita. Aspettiamo allora il professor Giovanni Chifari, Silenzio, ascolto e parola, sarà la prossima occasione per incontrarlo. Intanto lo ringrazio con affetto. Grazie a voi. E naturalmente è la linea adesso alla regia. Grazie a voi.